Questo programma è offerto da il sito dello zoo. Vai su www.il sito dello zoo.com ed entra nel mondo del programma radiofonico più ascoltato d'Italia. www.il sito dello zoo.com Troverai le zoo news, le scenette, le repliche dello zoo, le zoo live, dove trovare in tempo reale le posizioni dei ragazzi dello zoo e poi lo zoo store, tutto made in Italy. Invece di stare su Facebook a pettinare le tastiere, entra nel mondo dello zoo cliccando il sito dello zoo.com. Nessuno ha mai pensato di essere ciò che poi dopo lo sarai. Voglio fare una presigla in tempo reale. Voi ascoltatori non siete in radio e quindi vi descrivo cosa vedo con i miei occhi. Marco Dona è tutto peli mosci nella sua postazione, poi Alan è alla sua destra tutto buco in testa senza scampo, poi c'è Luca Alba, poi DJ Spina, grande Spina, grandissimo come sempre, super preparato e soprattutto molto presente col cervello. Poi Pippo Palmieri, l'intoccabile, un gran lavoratore, infatti è proprio lui che ha pigiato play per far partire questa presigla. Poi vediamo chi manca, i tre della televisione li ho già presentati. No, no. Ah, eccoli, Wender sta scrivendo quello che dico in questo momento. Sì, perché è tutto in... Scusate, ma Wender ha svappato con la siga. E allora? Dicevo, è tutto in tempo reale. Poi Fabio Alisei, beh, che dire, lui è il DJ più perspicace del mondo. Non sono il DJ. Manca Paolo, ma non lo vedo. Ah sì, è nel suo ufficio che sta sgridando il direttore perché oggi è arrivato in radio in ritardo di 23 secondi. È vero. E infine Marco Mazzoli. Sì. Eccolo, lo vedo. Ciao Marco. Ciao Petro. Quanto sei culo. No. Dai, dai, che scherzo. Marco, come sempre, è vestito con la sua camicina aderente da cinese. No, con la merda. Ha sempre le gambe corte. Eh, beh. Beh, quelle non le può mica cambiare. Eh, no, no. E poi è bello. È bellissimo. Anzi, da grande sarà... Da grande sarà troppo giù. No, basta. Da grande sarà troppo giù. Dai, che c'è la storia delle unioni civili. Poi... Si dicono queste cose, poi i ricchioni si arrabbiano. Questo è lo Zodi 105, il programma più ascoltato d'Italia. Viamo! Sigla. Lo sento nascere. Remix. Lo sento crescere in me. È come un brivido che non puoi comprendere. Rompere le regole. Oltre ogni limite. Come son donna oggi. Ma non ti molla mai. Non ti molla mai. Non ti molla mai. Non ti molla mai. È troppo tardi ormai. No, non ti molla mai. E fa parte di te. Le mani al treno. Caricchionata, ragazzi. Caricchionata ragazzi